Enrico, ci avete provato fino all'ultimo ma non ci siete riusciti a strappare la terza gara? Sì, diciamo che è bene o male la fotocopia dell'altra partita che abbiamo fatto lì a Modena. Il primo set siamo partiti molto bene, dopo loro tengono sempre un'altra marcia rispetto a noi. E alla lunga lo portano a casa loro il risultato. Sono state molto scaramucce in campo? Sì, è quasi sempre così con loro perché sono bravi a stuzzicarti sotto rete e te reagisci e di conseguenza ti prendi un cartellino. È bello e divertente anche per questo. Ciao Enrico, un bocca al lupo! Ciao Creppy!